Quali sono gli obiettivi per il prossimo anno? Gli obiettivi sono come associazione naturalmente quello di continuare a crescere. Devo ricordare, perché per noi è un motivo di orgoglio importante, che in quattro anni abbiamo quadruplicato i nostri soci. Siamo passati da 60 a 240 brand iscritti, con una rappresentanza di questi 240 brand iscritti di oltre il 70% dei valori di mercato del franchising, che è una testimonianza quindi di reale presenza sul mercato dei nostri brand. L'obiettivo è quello di crescere come associazione. L'obiettivo però più importante è quello di dare continuamente dei servizi utili ai nostri associati, che riconoscono nel nostro franchising qualcosa che serva, che mi sembra la cosa fondamentale, e che soprattutto riconoscono nel nostro franchising la palestra giusta, dove presentare le loro novità, dove presentare soprattutto a chi ancora non sa che cos'è il franchising, le eccellenti opportunità che questo sistema distributivo nuovo possono offrire al nostro mondo. Grazie a tutti.